Capitolo 1 Il Dio, dopo avere in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi, mediante il suo figliuolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi. Il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi, diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli disse egli mai, tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato? E di nuovo, io li sarò padre, ed egli mi sarà figliuolo? E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice, tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliuolo, il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tu hai amata la giustizia e hai odiata l'iniquità, perciò Dio, l'iddio tuo, ha un totè d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, tu, Signore, nel principio fondasti la terra, e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu dimori, invecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un mantello, e saranno mutati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non verranno meno. E a quale degli angeli disse egli mai, siedi alla mia destra, finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi? Non sono essi tutti spiriti ministratori, mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza? Capitolo 2 Perciò bisogna che ci atteniamo vie più alle cose udite, che talora non siamo portati via lungi da esse. Perché se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma, e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? La quale, dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Di fatti non è ad angeli che egli ha sottoposto il mondo avvenire del quale parliamo. Anzi, qualcuno ha in un certo luogo attestato dicendo, che cosa è l'uomo che tu ti ricordi di lui, o il figliuolo dell'uomo che tu ti curi di lui? Tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore, tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi. Col sottoporgli tutte le cose egli non ha lasciato nulla che non gli sia sottoposto, ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Ben vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha patito, onde per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figliuoli alla gloria, ben si addiceva a colui per cagione del quale sono tutte le cose e per mezzo del quale sono tutte le cose di rendere perfetto per via di sofferenze il duce della loro salvezza, poiché è colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno, per la quale ragione egli non si vergogna di chiamarli fratelli dicendo, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo alla radunanza canterò la tua lode. E di nuovo, io metterò la mia fiducia in lui. E di nuovo, ecco me e i figliuoli che Dio mi ha dati. Poiché dunque i figliuoli partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'imperio della morte, cioè il diavolo e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Poiché certo egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla progenie di Abramo. La onde egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, affinché diventasse un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo, poiché in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Capitolo 3 Perciò, fratelli santi, che siete partecipi di una celeste vocazione, considerate Gesù l'Apostolo e il Somma Sacerdote della nostra professione di fede, il quale è fedele a colui che lo ha costituito come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Poiché egli è stato reputato degno di tanta maggiore gloria che Mosè, di quanto è maggiore l'onore di colui che fabbrica la casa in confronto di quello della casa stessa. Poiché ogni casa è fabbricata da qualcuno, ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio. E Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione, come nel dì della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, e videro le mie opere per quaranta anni, perciò mi disgustai di quella generazione, e dissi, sempre erra il cuore loro, ed essi non hanno conosciute le mie vie, tal che giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo, guardate fratelli che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'iddio vivente. Ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo dal principio, mentre ci viene detto, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? E chi furono quelli di cui si disgustò durante quaranta anni? Non furono essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? E noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Capitolo 4 Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa di entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro, poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona novella. Ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome gli ha detto, tal che giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fino dalla fondazione del mondo. Perché in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così, e Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e in questo passo di nuovo non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque è riservato ad alcuni d'entrarvi, e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza, egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo nei salmi, dopo lungo tempo, come se detto di anzi, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, il Dio non avrebbe di poi parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anche egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque di entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza, perché la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada, due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midulle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figliuolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Capitolo 5 Poiché ogni sommo sacerdote preso di fra gli uomini è costituito a pro degli uomini nelle cose concernenti Dio affinché offra doni e sacrifici per i peccati, e può avere convenevole compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è circondato da infermità. Ed è a cagione di questa che egli è obbligato ad offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per sé stesso quanto per il popolo. E nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma l'ebbe da colui che gli disse, tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. Come anche in altro luogo egli dice, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Il quale, nei giorni della sua carne, avendo con grandi grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, e avendo ottenuto di essere liberato dal timore, benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Del quale abbiamo a dire cose assai e maleagevoli a spiegare, perché siete diventati duri d'orecchi, poiché mentre per ragione di tempo dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio, e siete giunti a tale che avete bisogno di latte e non di cibo sodo, perché chiunque usa il latte non ha esperienza della parola della giustizia, poiché è bambino, ma il cibo sodo è per uomini fatti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Capitolo 6 Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi e della imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno, e così faremo seppure Dio lo permette, perché quelli che sono stati una volta illuminati ed hanno gustato il dono celeste e sono stati partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a avvenire se cadano è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il figliuolo di Dio e lo espongono ad infamia. Infatti la terra che beve la pioggia che viene spesse volte su di lei e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata riceve benedizione da Dio, ma se porta spine e triboli è riprovata e vicina ad essere maledetta e la sua fine è di essere arsa. Per altro, diletti, quantunque parliamo così siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza, poiché Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete mostrato verso il suo nome coi servizi che avete reso e che rendete tuttora ai santi. Ma desideriamo che ciascuno di voi dimostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, onde non diventiate indolenti ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza eredano le promesse. Poiché quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per alcuno maggiore di lui, giurò per sé stesso dicendo, certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così avendo aspettato con pazienza, Abramo ottenne la promessa. Perché gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro e per essi il giuramento è la conferma che pone fine ad ogni contestazione, così volendo Dio mostrare vie meglio agli eredi della promessa la immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era posta innanzi, la quale noi teniamo quale ancora dell'anima sicura e ferma e penetrante di là della cortina dove Gesù è entrato per noi quale precursore essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. L'Epistola agli Ebrei Capitolo 7 Poiché questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote dell'Idio Altissimo, che andò incontro ad Abramo quando egli tornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse, a cui Abramo diede anche la decima di ogni cosa, il quale in prima, secondo la interpretazione del suo nome, è re di giustizia e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, ma rassomigliato al figliolo di Dio, questo Melchisedec rimane sacerdote in perpetuo. Ora considerate quanto grande fosse colui al quale Abramo, il patriarca, dette la decima del meglio della preda. Ora quelli di infra i figliuoli di Levi, che ricevono il sacerdozio, hanno bensì ordine, secondo la legge, di prendere le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano usciti dai lombi di Abramo. Quello, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore, e poi qui quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là la prende uno di cui si attesta che vive. E per così dire, nella persona di Abramo, Levi stesso, che prende le decime, fu sottoposto alla decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Ora, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su questo è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronne, poiché mutato il sacerdozio avviene per necessità anche un mutamento di legge. Difatti, colui, a proposito del quale queste parole sono dette, ha appartenuto ad un'altra tribù della quale nessuno si è accostato all'altare, perché è ben noto che il nostro Signore è sorto dalla tribù di Giuda circa la quale Mosè non disse nulla che concernesse il sacerdozio. E la cosa è ancora vi è più evidente se sorge a somiglianza di Melchisedec un altro sacerdote che è stato fatto tale non a tenore di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indissolubile, poiché gli è resa questa testimonianza. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Giacché qui vè bensì l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità, poiché la legge non ha condotto nulla a compimento, ma vè altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. E in quanto ciò non è avvenuto senza giuramento, poiché quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento, per opera di colui che gli ha detto il Signore lo ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno, è di tanto più eccellente del primo il patto del quale Gesù è divenuto garante. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in grande numero perché per la morte erano impediti di durare, ma questi perché dimora in eterno a un sacerdozio che non si trasmette, onde è che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno come gli altri sommi sacerdoti di offrire dei sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli ha fatto una volta per sempre quando ha offerto se stesso. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a infermità, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figliuolo, che è stato reso perfetto per sempre. Capitolo 8 Ora il punto cardinale delle cose che stiamo dicendo è questo, che abbiamo un tal sommo sacerdote che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto, poiché ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, onde è necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra egli non sarebbe neppure sacerdote perché ci sono quelli che offrono i doni secondo la legge, i quali ministrano in quel che è figura e ombra delle cose celesti, secondo che fu detto da Dio a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Guarda, egli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ma ora egli ha ottenuto un ministerio di tanto più eccellente che egli è mediatore di un patto anch'esso migliore fondato su migliori promesse, poiché se quel primo patto fosse stato senza difetto non si sarebbe cercato luogo per un secondo. Difatti il Dio, biasimando il popolo, dice, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo. Non un patto come quello che feci con i loro padri nel giorno che li presi per la mano per trarli fuori dal paese di Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto e io alla mia volta non mi sono curato di loro, dice il Signore. E questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io porrò le mie leggi nelle loro menti e le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E non istruiranno più ciascuno il proprio concittadino e ciascuno il proprio fratello, dicendo conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal minore al maggiore di loro, perché avrò misericordia della loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo, ora quello che diventa antico e invecchia è vicino a sparire. Capitolo 9 Ora anche il primo patto aveva delle norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e la presentazione dei pani, e questo si chiamava il luogo santo. E dietro la seconda cortina vera il tabernacolo detto il luogo santissimo contenente un turivulo d'oro e l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di aronne che aveva affiorito e le tavole del patto, e sopra l'arca i cherubini della gloria che adombravano il propiziatorio. Delle quali cose non possiamo ora parlare partitamente. Ora, essendo le cose così disposte, i sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo entra una volta solamente all'anno il solo sommo sacerdote e non senza sangue, il quale egli offre per se stesso e per gli errori del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché sussisteva ancora il primo tabernacolo. Esso è una figura per il tempo attuale, conformemente alla quale si offrono doni e sacrifici che non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo della riforma. Ma avvenuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli, attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di vecchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Perché se il sangue di vecchi e di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, santificano in modo da dare la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno ha offerto se stesso, puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'idio vivente. Ed è per questa ragione che egli è mediatore di un nuovo patto, affinché è avvenuta la sua morte per la redenzione delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Perché un testamento è valido quando è avvenuta la morte, poiché non ha valore finché vive il testatore. Ond'è che anche il primo patto non è stato inaugurato senza sangue. Difatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei becchi con acqua, lana scarlatta e issopo, e ne asperse il libro stesso e tutto il popolo dicendo, questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato sia fatto con voi. E parimente asperse di sangue il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. E secondo la legge quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. Era dunque necessario che le cose raffiguranti quelle nei cieli fossero purificate con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano esserlo con sacrifici più eccellenti di questi. Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio. E come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che lo aspettano per la loro salvezza. Capitolo 10 Poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai, con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno, rendere perfetti quelli che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe egli cessato di offrirli, non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati. Invece, in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare odio la tua volontà. Dopo avere detto prima, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi, ecco io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi, dopo avere offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando solo più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi. Perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. E anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo avere detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dov'è remissione di queste cose, non c'è più luogo a offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. E avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adonanza, come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda, e tanto più che vedete avvicinarsi il grande giorno. Perché se pecchiamo volontariamente, dopo avere ricevuta la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di qual peggiore castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figliuolo di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia? Poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto, a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È cosa spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente. Ma ricordatevi dei giorni di prima, quando, dopo essere stati illuminati, voi sosteneste una così grande lotta di patimenti, sia con l'essere esposti a vituperi e ad afflizioni, sia con l'essere partecipi della sorte di quelli che erano così trattati. Infatti, voi simpatizzaste coi carcerati e accettaste con allegrezza la ruberia dei vostri beni, sapendo di avere per voi una sostanza migliore e permanente. Non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale ha una grande ricompensa, poiché voi avete bisogno di costanza, affinché avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quello che v'è promesso. Perché ancora un brevissimo tempo è colui che ad avvenire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede, e se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Capitolo undici Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu trasportato perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio l'aveva trasportato. Poiché avanti che fosse trasportato fu di lui testimoniato che egli era piaciuto a Dio. Ora, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia, e per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede Sara, anch'ella, benché fuori d'età, ricevette forza di concepire perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa. E perciò da uno solo, e già svigorito, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la rena lungo la riva del mare, che non si può contare. In fede morirono tutti costoro, senza avere ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra, poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E seppur si ricordavano di quella d'onde erano usciti, certo avevano tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste, perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu provato, offerse Isacco ed egli, che aveva ricevuto le promesse, offerse il suo unigenito, egli a cui era stato detto, è in Isacco che ti sarà chiamata una progenie, ritenendo che Dio è potente anche da fare risuscitare dai morti, ond'è che lo riebbe per una specie di risurrezione. Per fede Isacco diede a Giacobbe e ad Esau una benedizione concernente cose future. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figlioli di Giuseppe e adorò appoggiato in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figlioli di Israele e diede ordini intorno alle sue ossa. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello e non temettero il comandamento del re. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliola di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla rimunerazione. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante come vedendo colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece lo spruzzamento del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede passarono il mare rosso come per l'asciutto, il che tentando di fare gli egizi furono inavissati. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo essere state circuite per sette giorni. Per fede Rahab, la menetrice, non perico i disubbidienti, avendo accolto le spie in pace. E che dirò di più, poiché il tempo mi verrebbe meno se narrassi di Gedeone, di Barac, di Sansone, di Gete, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, operarono giustizia, ottennero adempimento di promesse, turarono le gole dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Le donne recuperarono per risurrezione i loro morti e altri furono martirizzati, non avendo accettata la loro liberazione al fine di ottenere una risurrezione migliore. Altri patirono scherni e fragelli, ed anche catene e prigione. Furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra. E tutti costoro, pur avendo avuta buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello che era stato promesso, perché il Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, onde essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Capitolo 12 Anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì grande nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinnanzi, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era stata posta dinnanzi, sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e se posto a sedere alla destra del trono di Dio. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contra sé, onde non abbiate a stancarvi, perdendovi di animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato, e avete dimenticata l'esortazione a voi rivolta come a figliuoli. Figliuolo mio, non fare poca stima della disciplina del Signore, e non ti perdere di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che egli ama e flagella ogni figliuolo che egli gradisce. È a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. Il Dio vi tratta come figliuoli, perché qual è il figliuolo che il Padre non corregga? Che se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figliuoli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne, eppure li abbiamo riveriti. Non ci sottoporremo noi molto più al Padre degli Spiriti per avere vita? Quelli infatti per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano, ma egli lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Ora ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa di allegrezza, ma di tristizia, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, e fate dei sentieri diritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia, sì che molti di voi restino infetti. Che nessuno sia fornicatore o profano come Esau, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Poiché voi sapete che anche quando più tardi volle eredare la benedizione, fu respinto perché non trovò luogo a pentimento, sebbene la richiedesse con lacrime. Poiché voi non siete venuti al monte che si toccava con la mano, avvolto nel fuoco, né alla caligine, né alla tenebria, né alla tempesta, né al suono della tromba, né alla voce che parlava in modo che quelli che la udirono richiesero che nessuna parola fosse loro più rivolta, perché non potevano sopportare l'ordine se anche una bestia tocchi il monte sia lapidata, e tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse, io sono tutto spaventato e tremante, ma voi siete venuti al monte di Sion e alla città dell'iddio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e alla festante assemblea delle miriadi degli angeli, e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù, il mediatore del nuovo fatto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello di Abele. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi, se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. La cui voce scosse allora la terra, ma che adesso ha fatta questa promessa, ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Ora, questo ancora una volta indica la remozione delle cose scosse, come di cose fatte onde sussistano ferme quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti, e offriamo così a Dio un culto accettevole con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Capitolo 13 L'amore fraterno continui fra voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola alcuni senza saperlo hanno albergato degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, di quelli che sono maltrattati, ricordando che anche voi siete nel corpo. Sia il matrimonio ottenuto in onore da tutti, e sia il Tadamo incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, poiché egli stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Talché possiamo dire con piena fiducia, il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà far l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando come hanno finito la loro carriera, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Non siate trasportati qua e là da diverse e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da pratiche relative a vivande, dalle quali non ritrassero alcun giovamento quelli che le osservarono. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono il tabernacolo, poiché i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, come un'offerta per il peccato, sono arsi fuori del campo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta. Usciamo quindi fuori del campo e andiamo a Lui portando il suo vituperio, poiché non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. E non dimenticate di esercitare la beneficenza e di fare parte agli altri dei vostri beni, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché si vegliano per le vostre anime come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con allegrezza e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun utile. Pregate per noi perché siamo persuasi di avere una buona coscienza, desiderando di condurci onestamente in ogni cosa. E vi è più vi esorto a farlo onde io vi sia più presto restituito. Ora lì Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno, attratto dai morti il grande pastore delle pecore, Gesù nostro Signore, vi renda compiuti in ogni bene, onde facciate la sua volontà, operando in voi quello che è gradito nel suo cospetto per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, fratelli, comportatevi prego la mia parola di esortazione, perché vi ho scritto brevemente. Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà, con lui se viene presto io vi vedrò. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi, quelli d'Italia vi salutano. La grazia sia con tutti voi. Amen.